benvenuti al salotto di ulisse il podcast dell'accademia delle scienze bene buongiorno a tutti grazie vedo che c'è anche qualche studente e quindi questo penso che possa essere appunto anche un altro importante momento insomma così di riflessione coinvolgendo anche gli studenti l'iniziativa di oggi appunto è stata pensata appunto per discutere del della democrazia in sud africa dato che non so sono i 30 anni della fine della parte come già ricordato ora la mia collega professoressa gherardi ma anche perché a fine maggio ci sono le elezioni quindi diciamo un ragionamento un po per vedere alcuni aspetti della situazione del sud africa la vigilia delle prossime elezioni io farò una prima prima parte più su alcune questioni interne della politica interna al sud africa invece poi il mio collega guarderà alcuni aspetti più dal punto di vista dei rapporti internazionali della politica estera del sud africa abbiamo pensato di dividere in questo modo i due interventi e poi dopo naturalmente approfondiremo chiariremo sulla base anche di vostre sollecitazioni che mi auguro appunto che ci siano vabbè qui avevo messo una cartina del sud africa ma giusto così per per iniziare e poi l'attuale presidente ramaposa che viene dal sindacato quindi è importante una persona importante e vedremo appunto adesso come andranno le elezioni parto con alcune questioni di carattere generale riguardante proprio le elezioni qui ho riportato i dati delle elezioni di cinque anni fa ho messo solo i partiti che hanno avuto una rilevanza più significativa che sono ovviamente l'africa national congress che ottenne il cinquantotto per cento quindi in un trend sempre maggioranza assoluta ma in un trend calante rispetto alle prime elezioni del 94 la democratic alliance che è un gruppo diciamo così ampio aperto che però sicuramente trae molte delle sue origini dall elettorato bianco e infatti è poi il partito che governa in western cape che è la provincia appunto che tradizionalmente cioè questa western cape che è tradizionalmente diciamo porta espressione anche dell'elettorato bianco e quindi dei suoi risultati anche in termini elettorali poi abbiamo l'economic freedom fighters che è una come dire un gruppo che appunto è anche importante nelle elezioni contemporanee cioè della prossima del prossimo mese che è un gruppo diciamo a sinistra se così possiamo dire dell'africa national congress che ha forte rivendicazioni in termini di maggiore interventi dello stato rispetto a quelli che sono i principali problemi del sud africa come la disuguaglianza come la disoccupazione come la ridistribuzione eh fondiarie come anche in alcuni casi sollecitano anche qualche livello di nazionalizzazione o comunque di maggiore controllo ehm di alcuni settori dell'economia e poi linkata freedom party un partito che nasce all'interno del gruppo zulu ma che comunque ha una dimensione un pochino più ampia questi erano i principali partiti che avevano tenuto voti in maniera più significativa che saranno presenti anche in queste elezioni e la partecipazione al voto però cominciava a calare nel 2019 era intorno al 65 per cento quindi probabilmente una delle incognite sarà appunto anche quella di capire eh quante quante persone andranno a votare secondo alcuni alcuni discontenti alcune persone che non sono tanto contenti della politica sudafricana dopo 30 anni di governo dell'Africa National Congress secondo alcuni potrebbero anche non votare non necessariamente cambiare voto ma non votare però ecco bisogna vedere insomma ci sono varie ipotesi sui sondaggi e quindi ehm il non voto da un lato e l'attrattività di questi partiti soprattutto della Democratic Alliance da un lato e delle economic freedom fighters dall'altra potrebbero porre dei problemi mh cioè più che dei problemi una necessità di riconfigurare di rivedere l'assetto politico del Sudafrica secondo alcuni sondaggi ma qui bisogna vedere io non mi azzardo non ho la sfera di cristallo quindi riporto alcune cose che ho visto l'Africa National Congress quest'anno forse per la prima volta potrebbe scendere sotto il 50 per cento eh alcuni lo descrivono come una questione estremamente problematica in realtà dipende da quanto va sotto ecco eh uno due eh dal fatto appunto come eventualmente costruire delle possibili alleanze il leader dell'incata Freedom Party per esempio si è già dichiarato disponibile ad un'eventuale alleanza eh forse c'è un'altra incognita dopo dirò qualcosa anche dopo che è un partito eh guidato dall'ex presidente del Sudafrica quello più chiacchierato probabilmente eh eh Giacobo Zuma eh che apre che presenterà una sua lista che in modo interessante si chiama un conto Wessiswe cioè eh la lancia della nazione ossia il nome del gruppo armato diciamo così dell'ala armata di lotta dell'Africa National Congress durante la lotta al al sistema di apartheid ecco quindi c'è un quadro sicuramente un po' eh in movimento sicuramente c'è un calo di popolarità dell'Africa National Congress forse più complicato eh definire eh definire quanto in ogni caso comunque resterà in ogni caso il partito più importante e quindi eh questo in qualche modo poi inciderà su quello che potrà essere la struttura successiva degli altri partiti appunto ho già detto ricordo solo che la Democratic Alliance ha anche eh creato una piccola alleanza diciamo così con altri cinque o sei partiti molto piccoli proprio in questa prospettiva diciamo anti-Africa National Congress questo è un po' il quadro di come dal punto di vista della struttura eh dei partiti eccetera si eh presenteranno al al appunto alle elezioni eh io poi parlerò eh prenderò spunto dal dal discorso alla nazione che tutti gli anni viene fatto dal presidente che è stato fatto appunto eh in febbraio quindi prenderò spunto da quello per ricordare alcune questioni alcuni problemi insomma alcuni elementi di dibattito e poi vorrei eh utilizzare tre punti più significativi che riguardano la discussione eh del Sudafrica ovviamente in maniera sintetica tra i diversi problemi tra le diverse eh elementi che in qualche modo agitano così fra virgolette il panorama politico del paese ossia la riforma agraria eh la questione della dell'AIDS e la cosiddetta just transition cioè un tentativo di transizione giusta dal punto di vista eh come dire eh dell'utilizzo delle risorse energetiche eccetera farò un brevissimo flash su questi tre punti e poi naturalmente eh eventualmente interverete voi eh qualche dato di partenza questo però eh lo devo sì è utile che lo ricordo ehm forse ho saltato no va bene scusate ok eh qualche dato giusto per avere un po' una dimensione del paese circa 62 milioni di abitanti popolazione urbana ho messo spesso circa perché alcuni dati non sono tutti come dire di ieri mattina alcuni sono un po' più vecchi alcune fonti hanno dato danno anche qualche dato un po' diverso quindi tendenzialmente ho usato la definizione circa per darci un po' comunque la linea di tendenza la popolazione urbana è intorno al 65 per cento e questo è un dato da ricordare perché comunque rispetto all'Africa è un dato piuttosto alto ma nonostante questo non dobbiamo sottovalutare il fatto che la popolazione rurale è ancora più di un terzo e soprattutto molti degli elementi che vedremo come la disoccupazione la povertà la marginalità sociale sono fan sono molto parte del mondo rurale certo anche del resto della popolazione ma anche del mondo rurale la disoccupazione giovanile è molto alta la disoccupazione in senso ampio più completo intorno al 35 per cento quella giovanile sicuramente oltre al 60 per cento e quindi questo è uno dei grandi problemi appunto delle grandi sfide in qualche modo non risolte sulla base del quale si sono rivolte tante critiche al governo dell'Africa National Congress ed una questione che in qualche modo si dovrà poi essere si dovrà dovrà essere presa in considerazione dai successivi governi l'altro elemento importante è il coefficiente di Gini ossia quell'indice che determina il livello di disuguaglianza che si attesta intorno a 0 63 quindi la disuguaglianza in Sudafrica è piuttosto significativa lo è sempre stato e resta ancora una disuguaglianza che è naturalmente oltre che appunto 0 63 in senso generale ci sono disuguaglianze regionali disuguaglianza appunto fra mondo urbano e mondo rurale e soprattutto nonostante tutto c'è anche una forte differenza rassiale ovviamente cioè una disuguaglianza che mette molto in evidenza una differenza che magari non è oggi rigorosamente bianchi neri come era durante l'apartheid ma fra un'elite bianca e nera e il resto però della popolazione in gran parte nera che ha comunque una serie di difficoltà economiche di vario tipo che quindi rendono il coefficiente ancora piuttosto alto la stessa banca mondiale ha ricordato recentemente che il Sudafrica è uno dei paesi più diseguali al mondo quindi questo è sicuramente un problema che deve essere considerato e in questo ambito due dati ulteriori il 20 per cento più ricco possiede circa il 75 per cento della ricchezza e dopo il 1994 cioè dopo la fine dell'apartheid l'un per cento più ricco ha continuato ad accrescere la propria ricchezza quindi questo elemento della disuguaglianza è molto molto importante in più circa 9 milioni per la maggioranza neri quindi un numero significativo non hanno alcun tipo di assicurazione sanitaria poi ce ne sarebbero tanti altri ma insomma io ho selezionato qualche cosa perché mi sembrava un pochino utile che ci fosse appunto questo aspetto di dati ecco parto appunto sullo stato della nazione con questa vignetta di questo famoso vignettista sudafricano che produce continuamente zapiro che produce continuamente vignette questa secondo me dà molto la dimensione del dei problemi noi di come anche della percezione se vogliamo dei problemi usando appunto un gergo sportivo e calcistico Sudafrica che vedete va bene la nazione che si difende appunto dal ministro dello sport invece quando guardiamo il resto è tutti i palloni sono appunto entrati nella rete proprio a mettere in evidenza quelle difficoltà che un pochino ho cominciato a illustrare e poi naturalmente viene messo escom che l'azienda che produce l'energia elettrica perché questo è uno dei problemi gravi del Sudafrica e ci ritornerò poi in quell'ultima considerazione conclusiva eh sulla transizione energetica perché il Sudafrica ha dei grossissimi problemi di fornitura dell'energia eh negli ultimi anni ci sono stati continuamenti di stacchi programmati blackout programmati per zone per aree appunto nelle diverse città eccetera che hanno creato gravi problemi e quindi anche una percezione come dire di tensione se così vogliamo eh delle persone in senso più alto del termine rispetto al soddisfacimento di questo eh specifico eh elemento e quindi appunto è stato riportato nella vignetta. Eccolo. Il discorso appunto alla nazione che è stato fatto a febbraio dal presidente Ramaposa eh naturalmente ha toccato tanti punti eh io citerò soltanto due tre cose però voglio ricordare questa affermazione che lui ha fatto in quanto lui ritiene che il discorso di quest'anno sia un discorso che ha caratteristiche diverse che in qualche modo è unico perché perché dovrebbe essere un dovrebbe essere un discorso un eh uno state of a nation in qualche modo eh espressione del del Sudafrica che possa essere compreso dai sudafricani soprattutto anche comprendere l'elemento celebrativo legato appunto al fatto che sono trent'anni dalla fine dell'apartheid quindi trent'anni da quando si è sviluppato e consolidato il sistema democratico in eh in Sudafrica e quindi Ramaposa dice è importante che permettiamo a questi elementi chiave di essere espressi il più possibile senza aggiungere altre questioni cioè cercando di mettere un po' in evidenza come tutta una serie di temi di discussione di eh critica eccetera dovrebbero in qualche modo essere compresi all'interno di un quadro appunto più ampio di analisi della situazione politica e sociale del paese. Ehm egli poi ha messo in evidenza alcuni eh aspetti ha sottolineato naturalmente è chiaro che nel discorso della nazione ha cercato come dire di valorizzare anche una serie di eh punti che mh potessero essere visti in maniera positiva quindi ha sottolineato il fatto che nonostante l'elevata disoccupazione si sono creati in molti posti di lavoro eh gli occupati sono passati da 8 milioni a 16 milioni dal 94 sì questo è vero però anche aumentata enormemente la popolazione quindi diciamo è un dato un po' se volete ambiguo però ha rimarcato questo aspetto ha cercato di mettere in evidenza il fatto che si sta cercando di fare molto per la crescita economica eh questa è un'altra questione da ricordare la crescita economica nell'ultimo decennio in Sudafrica non è mai stata particolarmente eccezionale ehm alti e bassi insomma un trend non eh particolarmente eccezionale quindi lui ha insistito sul fatto appunto che comunque si è fatto molto per eh la crescita economica e per favorire appunto ehm attraverso la crescita economica una serie di altri risultati. L'altro punto molto importante che è stato messo in evidenza è appunto quello di sfide riguardanti appunto l'accesso all'acqua e alle risorse energetiche eh questo è l'altro elemento su cui tornerò cioè la difficoltà di come creare appunto eh questa eh just transition. Ha insistito molto perché questo è uno dei temi caldi eh oggi in Sudafrica sul fatto che della lotta eh alla corruzione del rafforzamento della legalità della lotta alla criminalità quindi questo è un altro punto caldo forte nel dibattito politico in Sudafrica. Oggi lui ha cercato appunto eh di ehm di rimarcarlo. Qualche altro dato più specifico molto velocemente legato al State of the Nation ehm circa 26 milioni di sudafricani quindi un numero molto significativo ricevono ogni mese una forma di assistenza sociale di questi nove milioni di disoccupati hanno un supporto diciamo un sussidio ehm l'età dei giovani eh pov dei giovani che non hanno lavoro è compresa fra i 15 e 24 anni quindi vabbè questo sembrare abbastanza scontato però ci fa capire ecco il problema considerando che oggi in Sudafrica l'età media è 28 quindi diciamo la disoccupazione come ho detto prima viene giocata molto sulle fasce più giovani ehm eh della eh della popolazione. Qualche altro elemento ecco la riduzione della povertà sì questo sicuramente è un dato che si è in qualche modo realizzato anche se non si è risolto appunto il problema della disuguaglianza. La popolazione povera considerata povera nel 93 era il 71 per cento oggi è scesa al 55 per cento quindi in questo senso c'è sicuramente almeno dal punto di vista quantitativo numerico un certo risultato così come è migliorata l'aspettativa di vita che è passata negli ultimi vent'anni da 54 anni a 65 anni quindi un risultato significativo soprattutto se consideriamo quanto questo dato sia basso in Africa e un altro dato importante che voglio ricordare che oggi la maggior parte delle persone eh con HIV sono a conoscenza rispetto a quello che avveniva qualche anno fa sono a conoscenza del loro stato e eh quasi l'ottanta per cento di queste ricevono un trattamento antiretrovirale una serie di elementi che ha un pochino migliorato una situazione molto pesante molto drammatica eh in Sudafrica e nell'Africa australe e tutta negli anni precedenti riguardanti il il l'HIV. Eh altri dati con cui lui ha cercato di mettere in evidenza è la grande trasformazione sociale in termini di accesso ai servizi cioè miglioramento dell'edilizia eh cioè eh la maggior parte delle famiglie vivono in un'abitazione che può essere in qualche modo considerata formale eh anche se sono tanti comunque quelli che stanno in insediamenti di altro tipo ehm secondo appunto una sua stima entro il 2024 nove sudafricani su dieci dovrebbero avere accesso all'acqua potabile quindi in questo senso un risultato importante molto elevato l'accesso a internet ma vabbè questa è un'altra questione insomma che non sempre va di pari passo con quelli che possono essere altri problemi però viene presentato in questo discorso come un dato positivo ecco tuttavia però nonostante questi dati ci sono una serie di eh di problemi eh perché molte delle aspettative soprattutto in termini di eh riduzione della disuguaglianza di 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 elevata disoccupazione di forti elementi di marginalità sociale e quindi in alcuni casi di criminalità eh connessa restano comunque molto 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 elevati eh qui c'è un dato eh in cui non so perché c'è una cosa davanti che non so cosa sia ma tanto quello che conta si si capisce eh la percezione del principale problema è la disoccupazione questo è sicuramente secondo alcuni sondaggi alcune stime eh il dato più considerato più problematico da eh molti molti sudafricani eh a cui seguono prima che l'educazione l'acqua la povertà eccetera seguono la questione della sicurezza e della corruzione questi sono elementi che attraversano lo spettro politico del Sudafrica creando appunto una serie anche di di difficoltà al all'Africa National Congress eh un'altra cosa che voglio ricordare perché mi sembra interessante è il fatto che nonostante un certo miglioramento eh però se noi facciamo cento il livello medio reddituale dei bianchi vedete quanto la distanza sia ancora elevatissima da questo eh grafico si vede è molto migliorata quella degli asiatici più stabile quella dei colored meticci e dei neri c'è stato un aumento anche dei neri negli ultimi anni ovviamente dopo la fine dell'apartheid è qui che c'è questo aumento però vedete che c'è ancora questa grande differenza eh che ripeto non è più però più solo razziale certo c'è questo elemento ma forse più in generale la differenza fra chi ha e chi non ha per certi versi anche indipendentemente dalle razze non so quanto non ho guardato il tempo boh eh eh quindi bisogna che accelero molto va bene quindi mh vabbè la storia del Sudafrica l'assalto la diamo per scontata poi eventualmente il Sudafrica post ehm a partei intendo magari me lo chiedete voi voglio solo ricordare che eh il secondo presidente cioè il presidente il primo presidente dopo Nelson Mandela eh disse una cosa mi avviso molto importante che mette un po' in evidenza alcuni di questi aspetti ossia il fatto che il Sudafrica è comunque il paese delle due nazioni e delle due economie cioè proprio per mettere in evidenza questi livelli di tensione ehm di divaricazione fra ehm una nazione appunto più ricca quella dei bianchi delle nuove elite nere e il resto della popolazione delle due economie cioè un'economia molto più sviluppata legata ai rapporti internazionali e invece l'economia più del quotidiano e qui rientra molta dell'economia rurale dei neri eh quindi il paese delle due nazioni delle due economie anche se questa è una cosa detta eh più di vent'anni fa nonostante tutto però penso che ci dica qualche cosa come sintesi ecco di questi aspetti appunto eh sulla eh sulla di eh sulla disuguaglianza eh l'altro elemento l'ho già ricordato naturalmente appunto la corruzione eccetera eccetera e qui eh faccio vedere solo l'ex presidente Zuma eh che sembrerebbe ripresentarsi appunto anche queste elezioni che si è anche dimesso con qualche anticipo eh nel 2018 per tutta una serie di tensioni varie legate a corruzione ed altri fatti mh era diventato un po' famoso ed era stato preso di mira da questo vignettista per una sua affermazione riguardante l'AIDS sull'AIDS c'è stato a certa fase in qualche modo di negazionismo comunque di sottovalutazione del del problema da parte delle leadership sudafricane e l'ex presidente Zuma disse che non c'era poi non c'erano poi così tanti problemi lui si faceva una doccia dopo che aveva avuto un rapporto con una con una donna sieropositiva e quindi questa storia di lui che fa la doccia ha poi girato a lungo a livello nazionale e internazionale l'ho voluta mettere giusto così per far capire però come ehm anche queste percezioni su alcuni problemi forse in alcuni momenti sottovalutati poi riemergano anche oggi però voglio ricordare Nelson Mandela al suo insediamento il 10 maggio 94 disse abbiamo raggiunto la nostra emancipazione politica ci impegniamo a liberare il nostro popolo dai lacci della povertà della privazione della sofferenza e delle discriminazioni di genere e di ogni altro tipo dobbiamo pertanto agire insieme come un popolo unito per la riconciliazione nazionale per la costruzione della nazione per la nascita di un mondo nuovo e questa eredità comunque resta cioè il sudafrica democratico comunque nonostante tutte le critiche si è consolidato si è sviluppato ha elaborato una serie di elementi proprio anche del tentativo di unità della nazione pur appunto con tutta una serie di differenze che ehm avevo eh prima eh prima citato e volevo quindi ricordare Nelson Mandela e voglio solo ricordare giusto questo poi per gli studenti anche che sono pochi che il sudafrica non è un sistema presidenziale se il sudafrica è un sistema parlamentare in cui il leader del partito che vince poi viene eletto presidente la differenza è che il presidente poi agisce come capo del governo quindi c'è questo livello di sovrapposizione però non è un sistema presidenziale ehm velocemente le tre cose che volevo dire forse a questo punto eh qui sa questo qui di vecchi eh ah ecco sì qui ci sono una serie di problemi voglio solo ricordare il sudafrica resta una società divisa questo probabilmente è vero nonostante tutto nonostante tutti gli sforzi nonostante le grandi trasformazioni che comunque si sono realizzate resta ancora una società divisa non necessariamente solo per razza come dicevo ma anche per status per classe per possibilità di accesso alla ricchezza o ad altre opportunità ehm le tre questioni velocissimamente la questione rurale un flash è importante perché la storia del sudafrica è una storia in cui la segregazione l'apartheid nasce prima che dagli elementi legati allo sfruttamento minerario nasce dal gli espropri delle terre e quindi dall'occupazione delle terre che al momento della eh fine dell'apartheid erano in grande maggioranza posseduta dai bianchi quindi benché questo non sia eh economicamente il tema principale perché comunque il mondo rurale risproduce poco rispetto al pil eh rispetto all'industria e ad altre attività economiche però se guardiamo alla storia del sudafrica ha una fortissima valenza eh ideologico simbolica e quindi su questo si è sempre giocato dal 94 in poi un dibattito significativo forte eh nel tentativo di ridistribuire la terra ridistribuzione che non ha raggiunto gli obiettivi eh prefissati anche se negli ultimi anni ha proseguito con un buon passo e ehm è ormai è vicina a quell'obiettivo del 30 per cento che il governo si era dato 30 anni fa ehm voglio però ricordare due aspetti uno è che invece per la maggior parte della popolazione nera che vive nelle aree rurali che erano erede dei vecchi bantustan dell'apartheid non hanno ancora una struttura chiara di definizione del loro possesso della terra questo è un problema eh economico ma soprattutto politico molto importante su questo soprattutto l'economic freedom fighter sta facendo una grande battaglia per cercare di eh favorire una nuova norma attraverso la quale realizzare anche espropri senza indennizzo e su questo quindi si è creato negli ultimi anni un fortissimo dibattito che come ho detto è molto ideologico molto polarizzato che va al di là della questione in sé ma che traduce al suo interno tantissime altre questioni l'AIDS va bene l'AIDS sì è un problema in tutta l'Africa meridionale qui mi limito a questo punto a riguardare appunto alcuni di questi dati sono dati questi del 2022 7,5 milioni di persone affette da HIV eh 210 mila nuove infezioni in quell'anno nell'ultimo anno in quell'anno 45 mila morte collegate alle DS quindi ci sono dei dati ancora fortemente preoccupanti anche se in base a quello che è stato detto nel discorso della nazione che ho riportato prima soprattutto l'accesso alle cure antiretrovirali è estremamente eh aumentato. Eh la just transition è la just transition è il tentativo del Sudafrica dopo la COP26 nel 2021 a Glasgow di disegnare una sua politica di eh rielaborazione dell'accesso alle risorse energetiche anche creando dei partenariati internazionali che possono favorire ehm lo sviluppo di un nuovo sistema. Eh qui ehm richiamo solo due cose alcuni obiettivi e poi un problema eh ci sono una serie di elementi che richiamano molto proprio la concettualizzazione anche della transizione sudafricana in senso più ampio dopo l'apartheid cioè eh un just transition framework una transizione giusta dovrebbe essere essere una giustizia distributiva cioè riequilibrare rischi opportunità nella trasformazione energetico una giustizia riparativa che intervenga a favore delle comunità più marginalizzate che hanno pagato un prezzo più alto rispetto a queste questioni e una giustizia procedurale nel senso che di maggiore responsabilizzazione delle persone nella partecipazione alla transizione. Eh la questione più problematica è il fatto e questo è molto importante in Sudafrica il Sudafrica rispetto all'Africa è un paese estremamente inquinatore l'Africa non inquina quasi niente a livello globale eh sia ben chiaro eh Sudafrica invece un po' di più ecco non solo rispetto all'Africa ma nel panorama internazionale ehm è al dodicesimo posto se non sbaglio per esempio per alcuni elementi di che possono favorire il gas a serra. Questo dipende dal fatto che Sudafrica fra le altre ragioni è fortemente dipendente dal carbone e questo apre una grandissima questione se consideriamo che i problemi dell'accesso all'energia elettrica di cui ho parlato prima è questa riconversione molto problematica in un paese come questo dove l'energia elettrica non è ancora per tutti dove ci sono tantissimi problemi e dove riconvertire richiede tempo perché una delle critiche che è stata fatta è che finora questa però forse non è una critica solo per il Sudafrica è stato fatto poco come investimenti sulle rinnovabili e quindi se improvvisamente oggi chiudesse col carbone eh succederebbe sicuramente qualche problema più grave ecco almeno sul piano interno quindi il problema è quello non solo di guardare al cambiamento climatico ma di riuscire a immaginare un percorso di transizione giusta cioè di come gradatamente abbandonare il carbone creando però altre opportunità che siano sostenibili per l'ambiente da un lato ma anche sostenibili per l'accesso alle persone soprattutto a quelle che finora ne hanno avuto poche opportunità grazie Mario per questo sintetico molto approfondito a fresco di quali sono i problemi in campo oggi in Sudafrica un paese importantissimo appartenente eh che fa parte dei BRICS di cui ovviamente sappiamo pochissimo come sappiamo pochissimo di tutta l'Africa quando se ne parla a livello di cultura diffuse non solo di quello si cerca si fa eh si usano tanti stereotipi sull'Africa è molto importante cominciare a distruggerli questi stereotipi a vedere meglio da vicino i problemi e non fare solo dei gridi eh vuoti di battaglia e passo immediatamente la parola ad Arrigo Pallotti. Eh grazie e lasciatemi iniziare ringraziando eh Raffaella Gherardi per l'invito a venire appunto oggi pomeriggio a eh presentarvi insomma alcune considerazioni eh sulla eh politica estera del Sudafrica eh dopo la la fine dell'apartheid. Eh diciamo subito che quello che prevale oggi tra i pochi analisti eh soprattutto sudafricani della politica estera del paese è come dire il senso eh di una parabola. Cioè la politica estera del Sudafrica avrebbe in qualche modo ehm come dire eh disegnato ecco una una parabola eh in qualche modo marcata in maniera molto forte dalla presidenza di eh Giacob Zuma eh considerato un po' un momento proprio di crollo anche a livello internazionale del eh della proiezione del eh paese. ehm l'idea della parabola ecco pensandoci ripensandoci eh è problematica è problematica io ho inserito alcuni punti perché eh perché eh tende a in qualche modo mettere in secondo piano eh alcune alcune questioni eh ad esempio la continuità e le discontinuità eh nei trent'anni e quindi nelle nelle diverse presidenze che si sono eh succedute e eh una serie di limiti interni eh all'azione internazionale del Sudafrica e anche esterni a quella che è stata appunto l'azione eh del governo eh sudafricano. Quello che tenterò di proporvi oggi pomeriggio è l'idea non tanto di una parabola ma di una vera e propria evoluzione. eh di un'evoluzione se volete contraddittoria, problematica eh ma forse più che una parabola quindi diciamo così un qualche cosa che va verso semplicemente un qualcosa di negativo eh c'è stato uno spostamento dell'asse della politica estera del Sudafrica che comporta delle conseguenze. Eh qualcuno no sostiene che la politica estera del Sudafrica ha un problema anche proprio di identità ehm su questo vorrei un po' giocare oggi pomeriggio perché eh c'è un'identità c'è adesso appunto Mario Zamponi ehm legata a come dire al ripristino o meglio alla proprio all'aver portato in Sudafrica la democrazia non raziale e forse un'identità più legata proprio all'epoca della lotta di liberazione eh di un di un partito politico che aveva fortissime relazioni con l'Unione Sovietica attraverso l'ANC attraverso il South African Communist Party eh aveva fortissime relazioni con Cuba con il movimento dei paesi non alineati insomma ehm e quindi secondo me ecco l'identità ehm ha svolto un ruolo importante ecco anche in questa eh politica estera poi adesso mi spiego eh con degli esempi eh prima di però passare agli esempi eh qui c'è una cartina dell'Africa australe che per il Sudafrica è una regione molto importante di proiezione dirò alcune cose e proprio eh due considerazioni sul passato diciamo così eh il Sudafrica eh arriva al momento della transizione all'inizio degli anni 90 che è un paria a livello internazionale è un paria eh le Nazioni Unite eh lo hanno emarginato eh in gran parte dei programmi delle Nazioni Unite e Sudafrica non poteva partecipare ehm ha relazioni con pochi paesi ehm e eh gli stessi stati eh della regione eh come dire vedono il Sudafrica come per certi verso un grande problema perché noi non dobbiamo dimenticarci che alcuni di questi paesi tra la metà degli anni settanta e tutti negli anni ottanta hanno subito un costo altissimo in termini di distruzione provocata proprio dalla politica aggressiva che il Sudafrica aveva. Il Sudafrica aveva proteggere il sistema di apartheid tenendo il più lontano possibile i guerrieri dell'Africa National Congress e quindi anche colpendo chi li aiutava. Pensate all'Angola, pensate al Mozambico. Ora eh Nelson Mandela diventa eh il primo presidente nero no nel 94 del Sudafrica e Nelson Mandela eh che di fatto eh rimarrà al potere per solo per un mandato ehm dà delle nuove priorità alla politica estera di questo paese. Eh ovviamente che cosa? Beh la promozione della democrazia. La ANC ha portato la democrazia in Sudafrica. Un uomo un voto. Ecco vorrebbe come dire portarlo anche in altri paesi. Iniziare da quelli dell'Africa. Eh il rispetto dei diritti umani. Eh l'idea che ecco la pace internazionale va costruita attraverso le Nazioni Unite, le organizzazioni internazionali. Eh Sudafrica subito dopo la fine dell'apartheid eh entra a far parte di tutta una una serie di organismi internazionali che segnano una normalizzazione della sua appunto proiezione eh internazionale. E eh molto importante entra anche a far parte di quello che è il più importante organismo regionale dell'Africa australe. Eh si chiama SADEC, South African Development Community, ehm è appunto paesi che fino a quel momento avevano subito il colpo della destabilizzazione che adesso vedono entrare il Sudafrica in quello che è il loro organismo regionale e eh scrivono nei loro documenti il Sudafrica ci aiuterà adesso a svilupparci. Ci aiuterà no? Aprendo il suo mercato alle nostre esportazioni. Perché la storia dell'Africa australe è una storia di grandi squilibri nei livelli di sviluppo. Adesso il Sudafrica guidato finalmente dall'AISI da quelli che abbiamo sostenuto no? Durante la lotta di liberazione in qualche modo terrà conto delle difficoltà e ci aiuterà a eh superarle. Ehm ecco eh su ogni Presidenta mi sono sforzato no? Di sintetizzarla se volete in maniera eccessiva però per darvi l'idea. Per Mandela il Sudafrica è un ponte tra il nord e il sud del mondo. Eh? Il Sudafrica si parlava di questo nei primi nei primi anni novanti a metà degli anni novanti può essere una media potenza. Eh? Può appunto svolgere un ruolo di cerniera tra i paesi occidentali, tra i paesi industrializzati e appunto i paesi in via di sviluppo. Ci sono però dei problemi eh già con durante la presidenza Mandela. Eh eh Mandela passa la storia evidentemente come quel che è il leader che è riuscito a traghettare un paese su su sull'orlo dell'abisso invece ha una transizione eh pacifica. Però ecco la sua politica estera cosa forse un po' meno nota ha delle difficoltà come poi eh prima parlava appunto Maria Zamponi anche la sua politica economica all'interno del del paese. Eh ehm quali sono fondamentalmente le le difficoltà che incontra? Ehm sul piano continentale il fatto che molti governi africani non sono contenti dell'irruenza con cui il Sudafrica promuove la democrazia. No? Eh ci sono paesi, il caso emblematico rimane la Nigeria, no? Che hanno tanto aiutato la INC che improvvisamente si vedono accusati eh appunto di essere dei dei governi autoritari. E in questi governi autoritari reagiscono in malo modo, no? Appunto tentando di isolare eh il Sudafrica a livello continentale. Questo non vuol dire che la politica di Mandela fosse sbagliato. Forse però come dire un po' incauto, no? Il modo un po' troppo tracotante con cui viene viene promossa anziché creare no? Delle condizioni, delle alleanze, delle reti per poi premere su certi paesi. Ehm l'altro grande limite ovviamente è in Africa australe. La eh il Sudafrica arriva no? Alla fine della partea in recessione. Ha bisogno di esportare bisogno di mercati, no? Eh non a caso ho messo già nel novantotto in questa slide che allaccia rapporti con la Cina, con con Beijing, ok? Nel novantotto. La partea aveva rapporti con Taiwan. Mandela è arrivato al potere, c'è proprio un motivo storico per cui ci pensa un attimo prima di aprire la Cina popolare. Eh l'INC non aveva buoni rapporti con la Cina, no? Eh era legato all'Unione Sovietica, non alla Cina. Quindi insomma c'è un momento di passaggio, poi però il pragmatismo economico eh porta anche il Sudafrica a eh testa, a instaurare rapporti diplomatici con con Pechino, con Beijing e e però anche a cominciare a liberalizzare il suo commercio con la Cina che vuol dire però l'ingresso di appunto beni cinesi eh a basso prezzo che competono con le sue esportazioni, con le sue produzioni. In sintesi estrema l'Africa australe diventa un mercato imperdibile per il Sudafrica e qui cominciano le tensioni perché il Sudafrica è in grado di dire agli altri paesi facciamo parte tutti della stessa comunità economica, adesso collaboriamo però però se volete entrare nel mio mercato dovete concedermi delle preferenze commerciali nei vostri mercati. Questo creerà grandi tensioni. Vi abbiamo tanto aiutato per liberarvi e questa è la moneta con cui ci ripagate. Allora non siamo quella comunità no di sviluppo coesa, armonica che volevamo essere. Se volete è un duro ritorno alla realtà. Tutti questi paesi devono esportare, tutti questi paesi devono svilupparsi in un contesto internazionale che va in una certa direzione e il Sudafrica non fa eccezione. Passo rapidamente al successore di Mandela, Tabo Mbeki. Tabo Mbeki, appunto già prima è stato accennato, è un presidente che pone molto l'enfasi su che cosa? Sulla diplomazia africana del Sudafrica. Alcune conseguimenti sono importanti. Tabo Mbeki è uno degli architetti della Unione Africana. In questo caso Tabo Mbeki tesse un'alleanza col presidente nigeriano, col presidente senegalese e mettono in un angolo Gheddafi che voleva un'Unione Africana molto diversa, con un governo africano, un esercito africano, è presto. Però l'Unione Africana deve occuparsi di sicurezza, di occuparsi di democrazia. Poi bisogna discutere come la definiamo la democrazia. Però ci sono dei passi avanti che sono importanti. Vi sottolineo però questa strana sigla IBSA. Perché? Perché comincia, capite, è un'evoluzione. Se il Sudafrica si considerava il ponte tra nord e sud, Mbeki sarà il primo presidente sudafricano invitato al G8. Perché va a portare la visione del sud del mondo al G8. Però allo stesso tempo IBSA sta per India, Brasile e Sudafrica. Cioè si cominciano a provare, tentare, delle alternative, anche proprio organizzative, a dei modelli di cooperazione che sono già molto strutturati. Qual è l'idea? In fondo India, Brasile e Sudafrica possono aiutarsi vicendevolmente a livello internazionale e a livello economico. Non avrà grande fortuna questo raggruppamento. Perché? Perché successivamente, come dire, verrà travolto, sostituito dai BRICS, appunto, a cui prima accennavamo. Ci torno tra un attimo. Però mi interessava cominciare a porre questa questione. Sudafrica comincia a concepirsi come motore della cooperazione tra sud e sud. C'è proprio uno spostamento dell'assa. Non è nord-nord, sud. Con tutte le contraddizioni che questo comporta. Su questo ci torno tra un attimo. Nel caso di Mbeki, anche lui, appunto, una politica africana, la chiameranno in maniera molto retorica. La rinascita africana. La Presidente del Sudafricana contribuisce alla pubblicazione di libri e riviste che parlano in questa rinascita africana. Però la rinascita africana ha dei limiti. Perché? Perché dal punto di vista politico si comincia a preferire la stabilità alla riforma, alle riforme democratiche. Casa emblematica è lo Zimbabwe, in cui la situazione è gravissima e per tentare di avviare una transizione si preferisce in qualche modo mettere l'opposizione e l'autocrate che era Robert Mugabe insieme al governo per cercare appunto di portare il paese fuori dalla crisi. Capite che è una politica contraddittoria, politica che viene anche molto criticata a livello africano e internazionale. e poi certo c'è la rinascita africana ma sono poi le imprese africane quelle che approfittano no delle vari trattati di libero scambio che vengono firmati con i paesi dell'Africa per appunto aumentare la loro presenza, i loro investimenti per mettere le mani sulle materie prime di alcuni paesi, sulle infrastrutture eccetera. Mbeki verrà come dire, per me questo è un passaggio molto importante, spazzato via da una sorta di controblocco che si sviluppa all'interno dell'Africa National Congress, vedete che è impersonato da Jacob Zuma. Che cosa promette Jacob Zuma rispetto al rigore economico di Mandela, di Mbeki, propongo una visione più radicale, più progressista. Lo Stato che torna a investire pesantemente nell'economia, no? Torniamo come dire a pompare denaro nei settori sociali. Questo appunto mette Mbeki in grande crisi, Jacob Zuma ha successo, voi vedete però che nella panca degli imputati in tribunale finirà sotto processo, finirà gli arresti Jacob Zuma, l'idea della parabola del Sudafrica. Politica estera di Jacob Zuma è per certi versi in linea di continuità con quella di Mbeki, è meno altisonante, è meno retorica, però è anche molto concreta. L'ex moglie diventa presidente della Commissione dell'Unione Africana. Per il Sudafrica, capite, visto come il Big Brother, il grande fratello di tanti paesi, è un momento di accreditamento a livello africano. Zuma insiste, la politica estera è una politica economica. Noi dobbiamo intrattenere rapporti con gli altri paesi per portare vantaggi alla nostra economia. Il discorso perde, no? Quell'aflato legato ai valori, alla democrazia, eccetera, diventa molto pragmatico, no? Nei suoi discorsi c'è sempre questo ritornello. I nostri rapporti economi, i nostri rapporti nazionali devono contribuire al nostro sviluppo. È un modo anche per accreditare il suo governo agli occhi degli elettori. Non buttiamo via i soldi, no? In grandi processi a livello internazionale, in grandi avventure. Vogliamo portare lo sviluppo. Quelle cose non andranno ovviamente bene come Zuma si immaginava o chi lo sosteneva si immaginava. Però ecco il punto fondamentale. 2010, l'ingresso nei BRICS. È la Cina che spinge perché il Sudafrica entri nei BRICS. Mancava un paese africano e viene individuato appunto nel Sudafrica. I BRICS diventeranno molto importanti per il Sudafrica. L'asse si sta spostando. Non siamo più un ponte tra nord e sud. A questo punto la dimensione sud-sud tende a prendere il sopravento. Però anche qui è tutto molto contraddittorio. Legami con la Cina. Scambi di visita a presidenti, primi ministri. Però se uno va a grattare sotto la superficie, pensate il commercio tra Cina e Sudafrica. È a vantaggio della Cina dal punto di vista quantitativo ed è a vantaggio della Cina anche perché la Cina esporta manufatti in Sudafrica e importa materie prime. Quindi in Sudafrica importa materie prime. E scusate, esporta materie prime verso la Cina. È un tentativo anche quello, tutto di trasformazione dell'economia. È un corso che oggi in Africa è molto importante che né Zuma né Ramaphosa sono riusciti realmente a portare a realizzare. Lasciatemi anche accennare a due brevissimi pasticci che fa Zuma in politica estera. Il primo, molto noto, è quello della Libia. Il Sudafrica vota per la famosa risoluzione 1973 che impone la... me la ricordo perché al mio anno di nascita il numero, se bisogna di per quello. Fa sempre colpo ma è solo per quello. Che impone la no-fly zone su regimi di Gheddafi che poi però Gran Bretagna e Francia useranno per di fatto attaccare il governo libico. È un momento di grande imbarazzo. Ma come? Il Sudafrica ha votato quella risoluzione. Zuma di Iraq ci hanno ingannato. Avevano detto che volevano solo fare una no-fly zone. Non attaccare Gheddafi. Non rovesciare il regime. Da qui anche una certa retorica contro l'Occidente. Non ci si può fidare degli occidentali. E l'altro è una piccola, se volete, dettaglio. Però vi dice, ecco, la parabola da questo punto di vista, l'idea della parabola coglie nel segno. Nel 2013 l'esercito sudafricano interviene nella Repubblica Centroafricana, paese sconvolto da una guerra civile, paese senza che neanche il Parlamento voti questa missione con. Poi si scopre che alcuni familiari di Zuma sono in contatto con il governo della Repubblica Centroafricana per alcuni contratti legati all'exporti diamanti. Alcuni militari sudafricani vengono ammazzati, il contingente viene ritirato. È un pasticcio. La politica estera non può essere condotta a questo modo in Sudafrica. Ultimo punto, ecco, anche qui, Zuma, che ha una sua storia, è stato un personaggio chiave dell'INC durante la guerra di liberazione. Non è un leader improvvisamente salito alla ribalta. Ecco, è uno che però è stato in Angola, combattuto in Angola, ovviamente dal versante INC e sudafricano, conosce gli angolani e normalizza rapporti con un paese con cui tutti gli altri presidenti sudafricani hanno fatto molta fatica ad andare d'accordo. Però qual è il costo di questa normalizzazione? Però non parliamo più di democrazia, parliamo di affari, parliamo di sviluppo economico. Però ecco anche qui parliamo di sviluppo economico, ma Mario Zampone ci faceva vedere prima a beneficio di chi questo sviluppo economico in Sudafrica, perché le disuguaglianze rimangono altissime. Sono alla fine, l'ultimo appunto, Presidente l'avete già visto, Ramaphosa. Anche Ramaphosa ha una sua storia. Ecco, prima Mario Zampone ricordava, viene dal sindacato, però con la transizione era stato emarginato lui politicamente e si era reinventato come miliardario. Era stato uno dei grandi beneficiari di quegli schemi che il governo aveva attuato per consentire ad alcuni africani di entrare nel mondo del business. Prestiti a tassi agevolato per comprare azioni, imprese, eccetera. Il giorno prima del suo giuramento da Presidente il figlio viene arrestato. Era un messaggio al padre, sappiamo benissimo chi sei. Anche lui coinvolto in vari scandali, eccetera. Però è l'ultima bandiera dell'Africa National Congress, è l'ultima bandiera. Anche lui viene dalla guerra di liberazione dentro Sudafrica, eccetera. Che cosa fa? Su questo andiamo sull'attualità. Da una parte anche lui, tutti i suoi discorsi, la diplomazia, la nostra diplomazione è la diplomazia economica, perché il nostro problema è lo sviluppo. E però prende anche delle posizioni internazionali che sono, come dire, problematiche. La prima riguarda la guerra in Ucraina. Vi ricorderete che quando l'Assemblea Generale vota per la condanna dell'aggressione della Russia, il Sudafrica è uno dei paesi che si astiene dalla votazione. Il peso dei BRICS è evidente. Ripeto, l'asse si è spostato. L'asse si è spostato. Zuma guiderà una delegazione di presidenti africani in Ucraina e Russia con un piano in dieci punti per trovare la pace che verrà rigettato tanto dall'Ucraina quanto da Putin. Va bene? Con quelle immagini terribili dei presidenti africani che stanno parlando a una conferenza stampa al Cremlino e Putin che li interrompe dicendo che non è vero niente. La guerra in Ucraina è un'aggressione dell'Occidente contro la Russia. E loro che rimangono basiti. L'altra questione, anche qui molto spinosa, è quella di questi giorni, di questi mesi, ecco, verso Israele. Nel senso che il Sudafrica, per tutta una serie di motivi storici, i legami fortissimi con i movimenti palestinesi durante la guerra di liberazione, i legami con i BRICS, anche proprio gli equilibri politici interni al Sudafrica. Ecco che il Sudafrica, come tutti sapete, chiede alla Corte Internazionale di Giustizia appunto di condannare Israele per la questione del genocidio a Gaza, questione che sta andando avanti. Chiudo proprio con una battuta. Allora, l'assa si è spostato, si è spostati verso i BRICS, verso il sud-sud. Il problema però rimane, ecco, a beneficio di chi? Cioè con quali benefici per l'economia sudafricana? Insisto, su quali benefici per la democrazia sudafricana? Perché, come dire, si spalancano delle finestre per certi versi molto problematiche. Se, come dire, le politiche economiche che l'Occidente ha premuto, perché l'Africa adottasse, hanno avuto dei limiti, sono, come dire, sotto gli occhi di tutti, ecco, questa alternativa più autoritaria, che oggi è molto di moda in Africa, molto in voga, appunto di seguire una via più asiatica allo sviluppo, rimane altrettanto problematica, perché in questi contesti le disuguaglianze, quando non salgono, rimangono altissime e quindi sono, come dire, degli scenari molto problematici. Grazie.